Signore e signori, buonasera. In diretta dalla Piazza del Duomo di Reggio Calabria, la RAI, Radio Televisione Italiana, è lieta di presentare La Notte delle Sirene. Moda, musica, comicità. Presentano Sasa Salvaggio e Adriana Volpe. Buona visione. Siamo alla quarta edizione delle Notte delle Sirene e ci fa piacere che questa sera siamo proprio a Reggio Calabria, in questa terra splendida di Calabria, parleremo di tante cose. Questa sera ripercorreremo tre momenti importanti. Dicevo, notte incantate, incantatrici, parleremo degli anni 60, degli anni 70 e degli anni 80. E le Sirene degli anni 80. Eh sì, ci siamo ricordati. E va bene, un bel momento e mi ricordavo. Grazie a tutti. Anni 80, anni delle paiesse, del glamour, delle spalline. Che ricordi anche quelle spalline enormi che sembravano quelle di Goldring. Assolutamente sì, bello, anche un bel periodo. E le nostre due Sirene quindi hanno rappresentato magnificamente quindi questo dicennio, quindi andiamole a conoscere. Lei è? Luisa? Età? 22. E tu? Anita. Anita, quindi più o meno insomma hanno vissuto questi anni, quindi gli anni anche 80. Che cosa ricordate di questi anni? Molti film emozionanti come Flashdance o Il Tempo delle Mele. Che belli, che belli. Perché Sapore di Sale? Sapore di Sale, Sapore di Mare. Verdone? Ma quanti ce ne sarebbero da dire tutti i film di Verdone? Bellissimi, ha aperto suori, bellissimi. E invece se pensi per esempio proprio agli anni 80, magari se ti dicessi 1982. Sicuramente i mondiali, la vittoria dell'Italia ai mondiali. E scusate se è poco. Vediamo se si ricorda anche... Io incrocio le dita, non voglio dire niente, però ricordiamo... Aspettui, più tardi c'è una sorpresa. Almeno i tuoi gol della Germania, quelli almeno ricordiamo, incrocio le dita così. Ma si ricorda per esempio il nome di qualche calciatore dell'Italia che segnò in questa mitica, attenzione, finale, 82. Tardelli, Rossi, Altobelli. Brava, bravissima. Dieci e lode. E ricordiamo che è sempre la nostra giuria che deve quindi votare e decretare il decennio meglio rappresentato. E queste erano le sirene degli anni 80. Grazie ragazze, che belle sirene, che bello, che bello. Samantha, Anita e Luisa.